Inter Forever sbarca Tolentino per una nuova iniziativa benefica, inaugurare il centro sportivo multifunzionale donato da Inter, Suning e CSI. Per quanto riguarda la partita, Nerazzurri che passano già al quindicesimo con Spillo Altobelli tocco sotto Vincente. Il raddoppio porta la firma di Marco Materazzi che a sette minuti più tardi con la specialità della casa punizione e giro trova il gol del 2-0. Ancora Materazzi protagonista 4 minuti più tardi con Pizzi che serve a rimorchio Marco Materazzi, bomba sotto l'incrocio. 3-0 Inter, siamo solo al primo tempo, due tempi da 30 minuti per questa amichevole. Il poker arriva alla seconda della ripresa con Altobelli che sfrutta l'area spinta corta, aspettano tutti la cavalcata del capitano Aviar Zanetti che parte e va, Mancino in diagonale e al cinquantesimo siamo 5-0. L'ultima firma è di Beppe Paresi con un Mancino sempre a giro ma sul palo lontano ancora Assis di Pizzi, velo di Altobelli e Inter Forever che vince 6-0. Ma il risultato poco conta, conta l'ennesima fantastica iniziativa targata Inter Forever. Prossimi appuntamenti per Inter Forever a maggio, a metà maggio in Inghilterra contro il Norwich e contro il Chelsea. Grazie.